Cercasi ingegneri disperatamente, ingegneri informatici, gestionali, matematici e programmatori. Le aziende li inseguono ma le università non riescono a sfornarne a sufficienza per nuove figure professionali altamente specializzate che fino a pochi anni fa nemmeno esistevano. Ricca di opportunità la decima edizione di Jobs Units dell'Università di Trieste, obiettivo facilitare l'incontro tra le più importanti aziende del territorio nazionale, gli studenti e i laureati dell'Ateneo Giuliano per ridurre il tempo di accesso dei ragazzi al mondo del lavoro. Voi create borse di studio per posti di lavoro che ancora non ci sono e di cui avete bisogno. Esatto, quindi è come se facessimo un finanziamento e poi se le cose vanno bene proponiamo il matrimonio che è l'offerta di lavoro, quindi assumere queste figure così ambite. Le figure di ingegneria sono figure rare. La nostra società è alla ricerca di figure che facciano crescere la nostra azienda. 53 le aziende presenti, 900 gli studenti che hanno partecipato al Career Day, tra loro anche chi fa ricerca tra mille difficoltà. Soprattutto in Italia, però io vorrei rimanere in Italia e quindi sto cercando nell'ambito del privato, quindi nelle aziende farmaceutiche. Non è gettare la spugna, è reinventarsi.